Tutti ragazzi, benvenuti in questo mio video e sta per uscire il video sulla terza parte del libro di drag comunque il prossimo video sarà l'unboxing vi avevo già detto che lo facevo nel nascosto video ma non è sui Morphox di un Esplosion quindi no, ma su un'altra cosa che non vi voglio svelare poi lo vedrete nel prossimo video che sarà quando tornerò dal mio viaggio, ok? cominciamo con l'altro video